ciao ragazzi benvenuti sempre al mio canale allora non vi faccio vedere il lavoro perché è stato un pochettino macchinoso però se avete problemi di illuminazione ho aperto e pulito i fari di un alfa mito allora la lente parliamo comunque di un faro che la parabola interna alla lente e in ottime condizioni quindi era solo del fumo sulla sulla lente che dava problemi di diciamo di illuminazione quindi si vedeva proprio poco allora in molti casi si può aprire frontalmente però è un lavoro molto rischioso e si perde tantissimo tempo allora mi è venuta un'idea allora ecco qua il faro posteriore allora mi sono armato di tanta pazienza ho preso una lama seghetto soltanto e ho fatto un taglio come potete vedere poi ho chiuso con il silicone adesso l'ho solo fermato perché poi devo rifinirlo per non fare entrare acqua ho fatto un taglio sulla parte diciamo esterna del faro come potete vedere vi faccio il segno perché si vede veramente poco in quanto ho fatto diciamo la rifinitura migliore ho fatto questo taglio qua ecco qua continua ancora ho fatto fin qua e allargato anche da questo lato allora facendo facendo sti piccoli tagli e smontando quelle quattro viti che ci sono frontali qua due tre e quattro cacciate via la lente ovviamente una volta tirata via la lente il faro esce fuori si fa la pulizia della lente e il risultato è veramente ottimo allora ecco qua faccio vedere sul frontale dove il fumo della lente è sparito allora nell'altro faro che ho aperto non avevo allargato totalmente e non sono riuscito quindi se avete diciamo un pochettino paura a tagliare diciamo il faro mi ero preparato questo attrezzo fatto in casa con uno stantuffo davanti in carta bloccata con del nastro ovviamente il pezzo è in plastica l'ho piegato anteriormente ho messo dell'alcol su e l'ho pulito l'unica cosa che rimangono i soliti diciamo puntini della carta che possono essere andati via si possono tirare via fuori con uno spruzzino cioè con il compressore alta pressione parliamo comunque di un 6 bar almeno non fai da te insomma proprio piccoli niente la soluzione più facile e più tranquilla questa qua come ben sapete lo smontaggio del faro deve avvenire a paraurti tolto quindi fate anche attenzione a non spostare sti dadini perché altrimenti poi andate a far togliere il livello della luce e nient'altro insomma ecco ragazzi seguitemi ancora vi darò consigli come già qualcuno mi conosce un saluto ancora ciao a tutti Emanuele Emanuele Emanuele